Ed ora diamo il benvenuto al signor Rosolo Orini, detto Ramon, un atleta cremasco che pratica la corsa d'avventura. Benvenuto. Buonasera. Allora, lei è l'unico cremonese che per il terzo anno ha preso il via alla famosissima Boa Vista Ultra Trail, una corsa davvero molto impegnativa di cui parleremo più avanti. Però io adesso vorrei che lei spiegasse ai nostri telespettatori che cosa significa essere un runner d'avventura, che cos'è la corsa d'avventura. La corsa d'avventura avviene in autosufficienza, dove uno deve gestire quello che mangia, quello che beve, deve raggiungere dei posti ben specifici dove deve passare, dove viene curato, viene verificato lo stato fisico e deve portare a termine un determinato percorso che in questa corsa specifica è di 150 chilometri. Benissimo. In quanto tempo solitamente si arriva al traguardo? C'è un tempo massimo di 40 ore. I primi il record è 19 ore. Io personalmente il terzo anno, il secondo anno, ci ho messo 25 ore. Ecco, perché venete finita corsa d'avventura e non una semplice maratona? Perché si corre in mezzo alla natura, in mezzo al deserto, sulle spiagge, sulle rocce. Non è una corsa composta da più atleti, dove la cosa diventa l'esercizio, l'arrivo, il numero. L'importante è cercare di arrivare in determinato tempo in autosufficienza senza perdere il controllo. Con la Boa Vista Oltatrail è una manifestazione, una corsa, come ho detto prima, molto molto famosa, alla quale partecipano sette nazioni, se non sbaglio. Lei è stato l'unico cremonese, come abbiamo detto, e una corsa che si svolge nella splendida isola di Capoverde. Immagino che oltre alla fatica e comunque alla soddisfazione di correre, anche il paesaggio meriti. È una cosa da provare e a me piace parlare di questa cosa, soprattutto perché spero che ci siano altri runner che vogliono dedicare il loro tempo, anche se poi dopo il chilometraggio può spaventare, e dico una cosa che bisogna provare, perché provarla è una cosa che ti rende una forza, e ti rende una cosa che la provi soltanto, è difficile da descriverla. È correre con se stessi, cercare di correre senza sprecare energie, perché non c'è un punto d'arrivo col tempo dedicato, ed è importante misurarsi con se stesso. Ecco, e com'è andata Capoverde in questi anni? Nei primi due anni è andata benissimo. E siccome lo sport insegna che quando si cade si deve rialzarsi, quest'anno a me è capitato il 78esimo chilometro, ero in sesta posizione, di cadere e di non poter più correre. Difatti il medico mi ha fermato perché non potevo più calzare le scarpe, e ho dovuto fermarmi. E lì ho capito tante cose, cioè c'è sempre da imparare, e quando si cade bisogna essere capaci di rialzarsi e lo sport insegna questo. Quanto tempo ci vuole per prepararsi a una manifestazione come questa? Io per i primi tre anni mi sono sempre preparato, devo ringraziare Matteo Coati, che è il mio preparatore, del nuovo centro fitness di Crema, in un determinato maniera. Quest'anno mi preparerò facendo più corse. Quindi la vedremo all'edizione 2016? Sì, questo sì, però ne farò delle altre prima, se il lavoro me lo permette, perché gestire tutto un anno con una sola gara, poi dopo se ti va male, diventa un problema psicologico. Lei è anche recentemente stato nominato come responsabile dell'ufficio sport del Comune di Crema, e avete proprio in programma un'importantissima manifestazione. Beh, colgo l'occasione di dire che Crema è città dello sport 2016, e ci saranno parecchie manifestazioni, alle quali invito tutti a partecipare, perché è un evento importante per la provincia di Crema, ma soprattutto per la città di Crema. Benissimo, allora ringraziamo davvero Rosolo Orini, detto Ramon, runner d'avventura, per averci parlato di questa sua passione, questa sua esperienza, la corsa d'avventura, appunto, e ovviamente seguiremo le sue imprese. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie.